Salve, buongiorno, siamo qui in diretta dalla sede di Varcaturo dell'Oreca Pascarella, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti di food e beverage per la ristorazione. Siamo un'azienda completa a 360 gradi e facciamo del servizio e dell'assortimento dei nostri prodotti il nostro cavallo di battaglia. L'azienda dispone di circa 15-16 automezzi di proprietà, non utilizziamo il patrocino e riusciamo a consegnare in maniera molto cerebrica tutti i giorni, da lunedì a sabato, in tutte le zone di Napoli e Caserta. Siamo specializzati in tutti i comparti della ristorazione, importiamo carne da ogni parte del mondo, importiamo ittici surgelati, abbiamo a nostra disposizione salumi e formaggi, oltre a quelli un po' più commerciali, ma abbiamo a portafogli articoli anche tutte le DOP d'Italia e le EGP. Per quanto riguarda invece il comparto pizzeria, abbiamo a nostra disposizione tre molini, molto importanti, di cui una abbiamo addirittura l'esclusiva in Campania, abbiamo pomodori, una selezione di pomodori rossi, gialli, tra cui anche qualcosa a marchio nostro realizzato veramente per accontentare i clienti in tutta la specialità che questo prodotto e l'importanza che questo prodotto ha nella pizza. Abbiamo inserito anche la figura di un sommelier nei mesi di ottobre del 2020 e con questa figura riusciamo a realizzare carte dei vini personalizzate ai nostri clienti e ad essere di supporto in maniera molto 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 presente. Per di più abbiamo realizzato una cantina vini con circa 350 etichette e innumerevoli distillati che vanno da rum agricoli, grappe, whisky, eccetera. Per quanto riguarda sempre i prodotti del food, disponiamo anche tutta una linea di frutta secca, prodotti senza glutine, siamo un'azienda che tiene tanto a chi è celiaco e davvero con noi, i nostri clienti, possono realizzare tutti i loro penù con i prodotti senza glutine e senza lattosio. Per quanto riguarda il comparto del no food, anche in quel settore siamo molto 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 completi. noi predisponiamo di una vasta gamma di finger per rendere molto molto simpatici e ampi i buffet dei nostri clienti oltre che a tutta una linea di detergenza, plastica e carta specializzata proprio per la ristorazione. Una cosa che tengo a precisare è che nonostante il lavoro che fortunatamente è ripartito alla grande stiamo riuscendo a tenere testa. Siamo un'azienda che riusciamo ad essere molto completa, siamo un'azienda che riusciamo ad assistere il cliente infatti stiamo ricevendo tanti tanti complimenti dai nostri clienti e dai nuovi clienti soprattutto per la precisione nelle consegne, per come vengono effettuate le consegne con personale qualificato, in divisa, personale educatissimo e soprattutto una filiera che stiamo riuscendo ad organizzarla veramente per rendere gli chef tranquilli ogni mattina nel ricevere la merce negli orari a loro più consoni per poter svolgere il loro lavoro. Un saluto a Barbara e agli amici di Non Solo Calcio da Vincenzo Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella. Un saluto a Barbara e agli amici di Non Solo Calcio da Vincenzo Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella. Un saluto a Barbara e agli amici di Non Solo Calcio da Vincenzo Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella e dell'azienda Oreca Pascarella. Grazie a tutti.